è bella a tutti lupetti e benvenuti in questo nuovissimo video di shiver è un gioco che è un po horror che ho scaricato su event su steam gratuito e adesso iniziamo siamo in macchina sono le sigarette dicono che può aiutare accendiamo una sigaretta fa fumo e sta anche appannando tutto e poi c'è una cosa della musica bellissimo poi c'è un coupon che non è consigliato da medici 50% non lo possono comprare dai dice che deve arrivare dal papà passiamo qua in viaggio arriviamo a casa non c'era a mezzo alla strada no vabbè paurosissima sta roba no il mio braccio è rotto poi c'è una roccia questa la sarò per rompere il vetro il mio braccio è finalmente rotto devo cercare aiuto la tempesta arriverà questa notte il 13 ah qua è da dove non sono caduto sono caduto qua e là c'era il coso ok cos'è quello non lo so miniera notizia no vabbè cioè dobbiamo entrare qua dentro però non si può andiamo qua oh un'ascia aspetta forse con l'ascia posso rompere no non può è l'occhietto è troppo aspetta cos'è questo è un albero rotto sembra che sta marcendo tipo aspetta forse posso romperlo oh è caduto c'è una chiave aspetta è un pezzo di stoffa aspetta allora quindi possiamo entrare qua però entriamo vai entriamo vai oh che paura bottiglia una lettera di Josh no di Al mi devi chiamare la polizia sta investigando e contattando sulla tempesta sarò qui in minuti se mi chiami vabbè ma cos'è è abbastanza buia bottiglia è la vodka oddio un piatto aspetta forse possiamo metterlo qua possiamo usarlo come infiammabile qua c'è un divano e qua non si può entrare c'è bisogno di una cake dobbiamo cercare la cake oh che ha tirato il sasso è il sasso della macchina non si può prendere c'è una corda poi si può andare per di qua però io ho visto una cosa ecco esatto qui ma ah qua c'è una grata la guarda la interna no non ha energia brutta non si può tornare indietro e dobbiamo attivare il generatore ecco qui si può c'è una tante anche qui bottiglia vuota bisogna andare c'è anche una l'interna qui va bene per riprendere un po' di benzine non c'è nulla non è l'acqua che si è caduta la fiammuta si deve di sotto e sarebbe l'acqua qui non riuscire a perdere il carico ce l'ha la benzina ok WNP BNP MWT dire a aspetta posso posso dargli fuoco devo fare qualcosa così ok si aspetta si è tolta vai abbiamo il coso vabbè non sembra funzionare ora possiamo andare a accendere il generatore che se non sbaglio si trovava qui qui qua sopra ok abbiamo messo vai per 5000 dovrebbe non funzionare dovrebbe cominciare a momenti ok funzionato non si sta stoppando ora che tutto va bene dovremmo riuscire ad entrare qua dentro ok uh bellissimo ok aspetta vai andiamo serve una sorgente di luce non andrò lì aspetta allora possiamo andare lì così vai andiamo accendiamo si va uh che paura oddio stiamo andando nel buio che paura bellissimo sto gioco uh che paura siamo arrivati è rotto miniera tanica di birra no tanica vabbè oh un martello pneumatico però pesa troppo ci sono dei bagni oh no vabbè un minecart per tirare il caffè ma il caffè non c'è cos'ha questo ah che paura basta jumpscare sembra che c'è stata da black un sinkhole nel 1948 un sacco di persone sono morte e dobbiamo cercare di andare da qualche parte qua dove si va ok si può togliere questo non si può andare dobbiamo fare qualcosa per passare qua dice la se tu lo sai dice la mascotte sei ok ci serve il ferro possiamo fare la la termite ok ho capito bisogna prendere con l'accetta qui ok e si ha questo qua di ferro c'era dell'erogine che si è fatta qui poi se questa qua viene masciunata si crea questa qua di alluminio e se la uniamo avevamo la termite termite bellissimo ora come ci dice questo qui dobbiamo andare qua qua sotto mettere la polverina la messa si e con questo accenderlo si va ok bellissimo camel è molto danneggiata dice e se abbiamo l'ascia possiamo aprire ok no si è rotta l'ascia e adesso ok ora possiamo entrare andiamo così vai cos'è cos'è sta roba mi riporto indietro qua c'è sembra passare dell'aria no no là dobbiamo fare qualcosa ah qua dice dritto destra sinistra dritto dritto sinistra ah quindi destra destra no non va ah facciamo destra sinistra destra dritto dritto non si può no facciamo destra sinistra sinistra destra dritto facciamo sinistra vai ci siamo oh cos'è successo qua c'è il sinkhole la voragine è chiusa un piccone è un minecraft non si è un minecraft un minecraft antico ah cos'è successo qua dentro oh perché tutto vibra lo sono occhi oh un cappotto oh c'è la carta del ranger ah è quella per entrare nella porta oddio che schifo che sono occhi sono pezzi di persone oddio fa paura lasciamo aspetta ora dovremmo poter tornare a caso no no però non ricordo però aspetta ah dritto cosa è cosa è cosa è ok le sto prendo tutte si posso uscire no è rotto no dai troviamo poco per uscire adesso cosa devo fare qua non c'è nulla ho un piccone però come mi può servire qua c'è una via di uscita ok ho capito se dovrei se ho un piccone posso spaccare qui possiamo passare è tipo una una via di sicurezza di emergenza che si può passare ok ah qua non ho idea dove siamo ok dovrei riuscire con questo toglierlo si può passare si si può passare vai è molto più buio del solito ma cioè ma è anche molto più spaventoso stranissimo ma fatta passare da qui poi non lo so ora dovrei riuscire per qualcosa forse posso andare in quella via e trovare qualcosa ah visto che ho la carta del ranger posso entrare qui dentro e poter passare e si entra cos'è nota se sei uguale chiama la radio Josh va fai ok l'uomo è un watchtower e poi spara il flare e dovrebbero arrivare i soccorsi guardate a che cosa servono ho capito che dobbiamo fare l'uomo è un watchtower quindi l no spai l v t e ora dovrebbe funzionare ok l'uomo è un watchtower e ora dovrebbe funzionare ok ciao Josh dove sei ti sto arrivando spara il flare e dovrebbe arrivare un segnale di luce andiamo dai ci abbiamo fatta dobbiamo andare in strada dal segnale quindi riusciamo di qui non si può uscire ok cos'era quello è il mostro era il mostro no era qua dietro cioè era qua davanti l'avete visto non so come è riuscito a passare crack dobbiamo andare nella strada vai no è qui no come si può ho capito dobbiamo deve esserci un rumore che lo può distrarre ok dobbiamo andare via accendi via ok via aspetta un'idea ah no non si può andare c'è una cosa lì dietro quindi c'era per forza lui ok siamo in autostrada butto questa la candela romana e diamo fuoco vai va funzionando sta sparando ok oh il segnale che figo ok ora dovrebbero arrivare i sporci oh no però il tizio là è qui sotto in questo momento non posso più fare niente e se arriva no non è la fine spero di venire soccorci più presto lo simile però l'hanno l'ha visto casolosso ok dovrebbe arrivare soccorci fra un po' oh no sapevo immaginavo fosse là sotto però come ha fatto a salire tutto nero cosa è successo assolutamente no stai bene è finito? no vabbè ecco vai su quei studios una musichina così triste un gattino oddio che bello e ora è finito? è finito? titoli di quota Kevin MacLeod che è la musica che uso anch'io per i video oh siamo a casa e papà è tornato quel quadro l'ha pitturato lui tanti anni fa e ha anche smesso di fumare ok dice che il Windhoax è chiuso per vandalismo penso pure altra roba aspetta un alert è finito così cioè sono arrivata a casa perché è arrivato il soccorso bellissimo sto gioco bello 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 ragazzi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se volete altri video di altri giochi non sono riuscita a registrare Apex e noi ci vediamo al prossimo video ciao